L'istituto comprensivo Balotta di Barcellona Pozzurigotto, protagonista di una riscoperta delle antiche tradizioni. Al centro di questo interessante progetto vi è infatti il canto della Vexilla Regis, tipico del Venerdì Santo nella comunità barcellonese. Una iniziativa dalla quale è scaturito uno spot che ha visto come protagonisti i piccoli studenti della scuola guidata dal dirigente scolastico Luigi Genovese. Il progetto Vexilla è un progetto molto interessante che conclude un percorso PON che è stato iniziato con il progetto delle mini varette e si è concluso questo progetto dello spot per la Vexilla che rappresenta una tradizione appunto culturale barcellonese e in particolare si è cercata appunto di rinvigorire queste antiche tradizioni soprattutto tra i giovani e tra i bambini della scuola Balotta di Barcellona Pozzo di Cotto e creare appunto una comunicazione per portare avanti queste tradizioni, questo bene materiale. Questo progetto è stato seguito da esperti molto bravi che hanno saputo impartire loro quello che è lo scopo proprio della comunicazione. Questo progetto aveva due linee guida. La prima la riscoperta delle tradizioni che è veramente importante soprattutto in questo periodo storico e poi c'era l'approfondimento dal punto di vista del linguaggio, del linguaggio audiovisivo, quindi è una cosa altrettanto importante, cioè è lo strumento dello spot per riscoprire la tradizione. Quindi univa due aspetti secondo me molto importanti per i bambini soprattutto perché imparare a gestire un linguaggio come quello audiovisivo che loro conoscono ovviamente ma che devono imparare a gestire come se fosse una grammatica, come la grammatica a scuola. È molto importante perché diventano consapevoli di molti aspetti che magari già vivono normalmente nella quotidianità ma che devono appunto approfondire e saper gestire soprattutto, padroneggiare e poi chiaramente la riscoperta delle tradizioni nel mondo frenetico di oggi, non solo secondo me ma credo che sia un parere condiviso, è molto molto importante. Lo spot è nato comunque attraverso un percorso diviso in due step, la prima teorica alla scoperta delle tradizioni, la seconda ovviamente unendo la teoria del primo step alla pratica della multimedialità che comunque i ragazzini oggi giorno hanno sotto mano tutti i giorni. La realizzazione dello spot è stata creata attraverso l'utilizzo comunque di attrezzatura professionale, reflex, luci, abbiamo allestito un vero e proprio set e abbiamo guidato gli alunni nonostante la differenza d'età tra seconda elementare e quinta elementare nei vari percorsi e abbiamo sfruttato la loro curiosità.